Testo Noci giunge alla conclusione ma con un grande successo davvero. Le masterclass riempite per le quattro edizioni, la completo stasera, già ancora prima di promuoverle. Una valorizzazione del territorio attraverso le autoctoni, attraverso le eccellenze. Abbiamo cercato di sfidare i neofiti con tutti coloro, i giovani e anche meno giovani, che volevano conoscere da vicino la cultura del vino, del territorio, ma l'abbiamo fatto con le eccellenze della Guida Vite. Davvero 10 vini di particolare interesse, un modo per conoscere la nostra Puglia da nord a sud con le tante diversità, con le tante complessità, complessità ma intese come importanza e valore aggiunto che troviamo nel vino. Puglia Promozione è stato chiaramente tra le promotrici di questa rassegna, di questa quattro giorni, anzi di questa settimana intera, che ha visto chiaramente protagonista noci, ma io direi davvero la Puglia intera. Attraverso i vini abbiamo raccontato una sfaccettatura, una parte di vignaioli, produttori, agronomi, enologi, che sempre più migliorano ed innalzano il valore della qualità dei vini in Puglia.